Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, anche quest'anno, nell'approssimarsi delle festività di fine anno, vuole dare alcuni piccoli consigli sull'utilizzo dei fuochi d'artificio. Esistono quattro categorie, la F1 che sono artifici meno pericolosi e acquistabili dai maggiori di anni 14, la F2 che possono essere acquistati dai maggiorenni, la F3 che possono essere acquistati solo da chi è in possesso di portodarmi o nulla ossa del questore, ed infine la categoria F4, costituita da fuochi d'artificio destinati ad essere maneggiati esclusivamente da personale specializzato del settore. Per quanto riguarda i fuochi d'artificio illegali, in quanto non riconosciuti e non classificati dagli organi preposti, sono particolarmente pericolosi. Non hanno i minimi requisiti di sicurezza, di fabbricazione e di impiego. La vendita, come la detenzione e l'impiego, comporta sanzioni penali. Ora quattro semplici consigli. Non acquistare mai gli artifici da rivenditori non autorizzati. Non indirizzare gli artifici verso persone, animali o cose. Non bisogna mai raccogliere i fuochi d'esplosi da terra. Fare attenzione ad eventuali materiali infiammabili posti nelle vicinanze. Inoltre ricordiamo che tutti gli animali sono particolarmente sensibili ai botti. Ed infine lo slogan è sempre lo stesso. Usa la testa, non rovinarti la festa. Grazie. 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 Grazie.